benvenuti a questo nuovo filmato ci occuperemo di creare un nuovo file di parte ma non un file di parte di un nuovo modello solido ma proprio di creare uno standard un nuovo file di parte un nuovo standard per costruire i nostri modelli queste standard questo modello o template appunto da cui partiamo per costruire i nostri modelli è importante averne uno comune perché altrimenti tutti gli oggetti che creiamo per uno stesso oggetto o per una stessa ditta hanno unità di misura differenti hanno inquadrature differenti hanno sistemi di riferimento iniziali differenti quindi una gran confusione quindi è bene averlo questo modello standardizzato in maniera che tutto il lavoro che facciamo chiaramente non si disegna non si usano questi strumenti per fare un solo modello ma si usano per costruire delle macchine che sono fatte da tantissimi pezzi è bene quindi che tutti questi pezzi partano quando cominciamo da un file che abbia le stesse condizioni iniziali questi file con le stesse condizioni iniziali si chiamano modello o in inglese template allora come facciamo a fare questo nostro nuovo modello beh innanzitutto una premessa in inventor questi diciamo modelli esistono esistono e quindi potremmo adottare e usare i modelli di inventor è una strada che però io non suggerisco non consiglio è bene e in questo corso faremo così crearsi un proprio modello dei che con le proprie esigenze con quindi con i propri settaggi e usare quello magari derivando da quello di inventor quindi aprendo qualcosa che già esiste che già inventor ci fornisce modificandolo a questo proposito il sistema più veloce è quello di crearsi una nuova cartella dove metteremo tutti i nostri nuovi modelli allora inventor ha queste cartelle vi faccio vedere subito dove sono se io chiamo in inventor un nuovo progetto eccolo qua che sia una parte un assieme vengono presentati dei template allora già avete capito come gira la cosa se io voglio i template per la versione inglese di autocad apro questa cartella attenti cambierà quello che vedete qui se apro eccoli qua eccoli qua quindi addirittura quella cartella ne contiene tre se io apro la cartella in italiano dell'inventor italiano avrò questi nuovi diversi template se apro la cartella metrica avrò questi se apro la cartella english avrò questi quindi vedete già ce ne sono disponibili una marea il mio suggerimento è quello di crearsi vedete come lavoro crearsi dei propri file template questi sono i miei template per le parti per gli assiemi per i modelli per i disegni scusate le messe in tavola e per le presentazioni quattro tipi di file io mi sono fatti i quattro gruppi di template lo stesso faremo per il corso allora cominciamo ad agire la prima cosa che faremo quindi sarà andare ad aprire questa cartella ci user eccetera 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 pubblico come saldo desk inventor templates e creiamo una nostra cartella che avrà il nome template corso ok come facciamo a farla qui non abbiamo nessuna vedete nessun comando che permetta di creare cartelle solo cambiare la visualizzazione mostrare i dettagli ma nessuna possibilità di creare quindi annulliamo in questa situazione questo file usciamo da apriamoci un normale esplora file di windows e andiamo in c piano piano vi ridico tutto l'indirizzo c utenti pubblica documenti pubblici autodesk inventor 2019 eccolo qua templates e qui creiamoci vedete c'è la cartella vitali creiamoci una nuova cartella nuova cartella e diamogli il nome che abbiamo detto template corso template corso confermiamo chiudiamo 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 questa cartella e adesso se andiamo a rifare un file nuovo insieme alla cartella vitali c'è la tempo è la cartella che abbiamo appena creato templates corso chiaramente è vuota perché ancora non abbiamo fatto niente quello che faremo adesso sarà quindi quello di popolare di due template questa cartella dei template del corso con appunto due template uno per le unità di misura millimetri uno per le unità di misura pollici le andremo a prendere da quelli di inventor già disponibili in inventor quindi apriremo il file metrico standard millimetri ipt adesso non qui perché questo è già il comando per creare un nuovo file partendo da questo template io invece vado ad aprire questo template e lo poi copierò con il nome standard millimetri ipt tc template corso metto una sigla per identificarlo nella cartella template corso allora qui annulliamo poi facciamo apri andiamo nella template e andiamo nella cartella it it metrico eccolo qua standard millimetri ipt lo apriamo la posizione il file selezionato non si trova nel percorso di ricerca se vi viene fuori questo messaggio trascurato perché è relativo al progetto adesso non accumuliamo tante cose quindi trascurate questo messaggio se non vi viene va bene lo stesso anzi meglio aspettando un attimo viene fuori il file standard millimetri ipt che chiaramente è un file vuoto e che noi andremo a salvare file salva con nome salva con nome quindi nella cartella saliamo saliamo template corso standard millimetri ipt abbiamo detto che gli diamo una suffisso tc template corso salva la posizione non si trova nel progetto attivo se viene fuori fregate e dateli lo stesso al si se non viene fuori tanto di guadagnato chiudiamo e adesso se vado a fare un nuovo disegno chiaramente apro la cartella template corso ce lo ritrovo però dobbiamo ancora sistemarlo quindi ancora non posso iniziare un nuovo vero modello ma devo ancora sistemare questo un nuovo vero modello solido ma devo ancora sistemare questo file di template quindi qui do a nulla apri andiamo a pescarlo nella nostra cartella template corso standard millimetri tc allo sempre solito discorso non è nella ma voi ve ne fregate ora ce l'abbiamo aperto e incominciamo a sistemare a controllare per lo meno e a sistemare i vari parametri la prima cosa che facciamo è quella di verificare le unità di misura quindi strumenti impostazioni documenti documento allora una sulla seconda linguetta troviamo le unità vedete che sono giuste millimetri grado secondo chilogrammo possiamo lasciarlo le unità decimali per le quote lineari 3 i numeri decimali per le quote lineari 3 per le quote angolari 2 tutto ok e adesso seconda cosa guardiamo le norme no le asme sicuramente le iso materiale va benissimo il materiale generico per quanto riguarda lo stile dell'illuminazione preferirei mettere quello che uso anch'io che è la doppia luce due luci eccolo qui applica così abbiamo un primo cambiamento vedete che prova verifica che abbiamo fatto un cambiamento in realtà abbiamo fatti due mi da la possibilità di applicarlo chiudi due cose sono state fatte la terza è il piano x y messo diciamo sul piano quello che io essendo abituato ad inventor ritengo un piano verticale quindi preferisco vedere x y sul piano terra e quindi devo girare l'inquadratura come fare? allora prendiamo questa questo qui non è il fronte ma è imposta a vista corrente come in alto ok e adesso prendiamo il view cube vedete che adesso l'x y è in alto prendiamo il view cube e lo trasciniamo fino a portare in alto sopra e poi prendiamo la vista isometrica vista isometrica che ha fronte destra alto che praticamente è quella di che io sono abituato con cui sono abituato a lavorare anche perché vengo dal mondo in ben del mondo autocad e quindi questa è la vista diciamo predefinita il world coordinate system di inventor di autocad chiaramente la devo impostare a una distanza predefinita lasciamolo così è meglio poi magari dopo sarà quando si usa adatta la vista ma adesso è meglio metterlo così sul default quindi anche questo lo abbiamo controllato materiale colori generico e default e ci sono andiamo solo a cambiare con questo dovremmo aver finito o quantomeno a verificare che la modalità di visualizzazione sia ombreggiata dovremmo aver tutto e a questo punto salviamo il nostro prototipo chiudiamo e proviamo subito ad utilizzarlo in che modo allora lanciamo la creazione di un nuovo modello solido scegliamo standard millimetri tc come file di modello come template clicchiamoci sopra bene conflitto di stile ok questo è dovuto al fatto che c'è dentro noi abbiamo messo la norma ISO mentre c'era dentro l'ASME e quindi c'ha dentro dei nel file ci sono dei settaggi ISO nel nel file che abbiamo creato nello stile di quel file però ci sono dentro c'è l'ansi quindi dobbiamo eliminare questo conflitto adesso possiamo anche dare ok oppure possiamo chiudere il tutto tanto parte parte uno lo stesso vedete che è è atteggiato correttamente il punto di vista è corretto nella vista trovate le due luci eccole qua nei materiali trovate quelli giusti le unità di misura se faccio un qualsiasi una qualsiasi geometria sono i millimetri non le sto a controllare adesso quello che importa è eliminare quel conflitto quindi dovrò ancora riaprire il file quindi questo lo vado a chiudere e vado ad aprire il file quindi apri standard millimetri TC posizione scorretta posizione corretta se non mi viene fuori comunque qui cliccate sì allora devo sistemare quel problema di stili vado in strumenti gestione scusate editor di stili testo tutti gli stili no stili locali e testo e vedete che ci sono due stili per lo schizzo il testo schizzo e il testo nota che poi sono gli unici che vengono utilizzati in una parte e c'è lo schizzo c'è il testo c'è lo standard anzi che è inutile e lo standard ISO che invece è quello che voglio mantenere allora in questo momento sono entrambi in uso quindi qui faccio annulla e poi vado a fare elimina stili qui troverò che la norma anzi è possibile eliminarla perché vedete c'era ma adesso non viene utilizzata quindi è solo un carico che dà fastidio e se io gli dico eliminare sì sì tutti ok anche se mi dice bla 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 io gli dico sì continua eliminare gli stili locali adesso salvo il file chiudo il file se vado a rifare un nuovo partendo da template standard millimetri tc non c'è più nessun messaggio perché quello stile di testo legato alle norme anzi se non ricordo male c'era in partenza l'avevo sostituito sostituito le norme quindi era solo caricato ma non usato adesso avendolo eliminato io ho risolto ogni problema di stile quindi il nostro template è pronto settato esattamente come ci serviva è utilizzabile adesso parte 1 abbiamo già utilizzato non c'è stato nessun problema adesso per completare l'esercitazione farò molto veloce carichiamo e apriamo anche il apriamo anche in vediamo di usare questo qua lo standard IPT in inch no aspettate torniamo agli hit hit inglese standard pollice e cambiamo pollice giuro no giusto standard pollice standard pollice IPT la mia pollice standard pollice IPT lo apriamo ok lo mettiamo a posto come abbiamo fatto di là quindi qui x y vedete sta sul fronte e invece deve stare sull'alto quindi qui facciamo così cominciamo a sistemare questo file e questo lo facciamo diventare praticamente rifaccio le stesse cose solo che gli setterò continuare la modifica sì anche se poi lo rimetto a posto lo giro sversato perfetto salvo la vista corrente in distanza predefinita vado a guardare le impostazioni del documento la stanza grigia no e facciamo con due luci materiale generico va bene la normativa rimettiamo la ISO applica poi le unità pollice grado 2 libra massa lasciamo il grammo riduciamo il pollice e basta è un ibrido quello che facciamo solo le lunghezze applica chiudi chiudi questo l'abbiamo visto questo l'abbiamo visto questo è ombreggiato va bene non mi ricordo altre operazioni in effetti abbiamo fatto tutto quindi lo salviamo save as perché lo salviamo e contemporaneamente li cambiamo nome e lo mettiamo nella nostra cartella quindi templates template corso standard pollici slash underscore scusate pt tratti in basso pt tc template corso quindi questo è lo standard pollici scusate lo standard millimetri la posizione si trova non si trova diamo di sì ora se vogliamo fare subito la gestione dello stile vediamo se eccole qua le norme anzi eliminare sì così non ci sono problemi prima di non lo faccio subito vi faccio vedere che anche in questo caso ce ne sono nulla ce ne sono due editor di stili quindi anche qui il testo vedete c'è anzi iso teniamo l'iso perché solo le unità di misura abbiamo detto di cambiare quindi annulla eliminare quelli che non servono eliminare sì posso rischiacciarsi tutti ma non cambia niente ok alcuni stili eccetera eccetera bla 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 continuare sì salviamo il file perché adesso ha già il nome nuovo giusto standard pollici tc quindi basta fare salva chiudiamo proviamo a fare un nuovo usando quel prototipo in pollici nessun messaggio facciamo uno schizzo banale e quando andiamo a tracciare una qualsiasi che ne so c'è un piano xy un cerchio vedete che le coordinate xy vengono date in pollici chiaramente i diametri saranno in pollici quindi le unità di misura sono quelle che vogliamo quindi ci siamo creati i due template per i pollici tutto il resto mantenendolo sistema internazionale quindi grammi eccetera eccetera e in millimetri col sistema internazionale buon lavoro ci vediamo al prossimo filmato e come sempre mettete un like se vi è piaciuto il filmato e trovate utile questo corso alla prossima